Inizieranno domani a Gemona e Benzone le cerimonie per il 42esimo anniversario del terremoto e l'Ateneo Friulano tiene la catena UNESCO in sicurezza per la riduzione dei rischi da disastro Udine centro di eccellenza mondiale. Un'anziana è stata aggredita e rapinata nella notte nella sua casa di Pagnacco due malviventi sono entrati nell'abitazione infrangendo il vetro di una finestra. Lei si è svegliata e si è trovati di fronte. Le hanno rubato i gioielli che indossava. Molte maestre che rischiano licenziamento per mancanza di titoli pur a fronte di anni di servizio nella scuola pubblica stanno combattendo una difficile battaglia. Ad Aviano Anna e Imaiovi ne hanno iniziato lo sciopero della fame. Tra polemiche e consensi proseguono i lavori di asfaltatura in via Cividale a Udine soddisfatti per le migliorie e la viabilità. I commercianti si sentono trascurati rispetto ai colleghi del centro e lamentano disagi legati ai cantieri. Dopo le ultime contestazioni la tifoseria fa un passo indietro. La UC invita tutto lo stadio a stare con la squadra domenica. Curva vuota per i 45 minuti iniziali ma solo contro i DASPO. Poi sostegno. Buonasera da Telefriuli, ben ritrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale. Inizieranno domani a Gemona e Benzone le cerimonie per ricordare le vittime del terremoto. Le due comunità intendono mantenere la memoria di quei tragici momenti non solamente in segno di rispetto nei confronti delle vittime e delle loro famiglie ma anche per sottolineare a oltranza l'importanza della prevenzione. Le deposizioni di fiori alle 8.45 alle 9.30 al cippo della sezione ANA al monumento in ricordo delle vittime del terremoto e alle 10.30 con una messa alla caserma Goi Pantanali cominceranno domani a Gemona le cerimonie per il 42esimo anniversario del terremoto che si chiuderanno domenica alle 19.45 con il corteo da Palazzo Botton e la messa in Duomo. Questi appuntamenti, spiega il neoeletto sindaco di Gemona Roberto Revellant, sono divenuti una tradizione per la cittadina in cui l'amministrazione comunale intende lavorare per fare in modo che anche le nuove generazioni si ricordino di questa ricorrenza. Una ricorrenza che deve rimanere impressa nella memoria anche per trasferire all'intero territorio il concetto di prevenzione. Vivendo in una zona rischio sismico, continua Revellant, non dobbiamo farci trovare impreparati. A 42 anni dal sisma che distrusse gran parte della cittadina, Gemona ora punta a completare il rilancio del territorio anche dal punto di vista turistico. In programma, oltre all'ultimazione dei lavori di ricostruzione del castello, c'è la salita meccanizzata alla struttura per consentirne la fruizione a tutti e per creare un'offerta turistica integrata con le altre realtà del comprensorio, a partire da San Daniele, passando per il lago di Cavazzo e arrivando a Venzone. Anche nel borgo considerato il più bello e caratteristico fra i borghi italiani, sono previste ai 6 maggio diverse cerimonie per ricordare le vittime del terremoto con deposizioni di corone e la messa in Duomo alle 20. Nasce all'Università di Udine la cattedra UNESCO in sicurezza intersettoriale per la riduzione dei rischi di disastro e la resilienza. L'accordo è stato sottoscritto dalla direttrice generale dell'UNESCO e dal rettore Alberto Dettoni a 40 anni dall'istituzione dell'Ateneo, nato per volontà popolare proprio a seguito del terremoto del 1976. Titolare della cattedra è Stefano Grimaz, direttore del laboratorio sicurezza e protezione intersettoriale sprint del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura Focus della cattedra e l'approccio intersettoriale alla sicurezza con l'obiettivo di promuovere un sistema integrato di ricerca, formazione, informazione e documentazione nell'ambito della sicurezza, ma anche di facilitare la collaborazione tra ricercatori e istituzioni in Italia, Europa, Africa, Asia, Pacifico e America Latina. Con la cattedra UNESCO Serva Dettoni viene di fatto attivato un centro di eccellenza a livello mondiale sulle tematiche della sicurezza, della riduzione dei rischi di disastro e della resilienza, che conferma la valenza internazionale e il forte interesse dell'UNESCO per l'approccio innovativo e le ricerche del laboratorio sprint dell'Ateneo friulano. Tematiche emergenti come queste, serve più al centro delle politiche di difesa e prevenzione a livello mondiale, spiega Grimaz, potranno trovare anche e soprattutto nell'esperienza del terremoto in Friuli fondamentali spunti e riferimenti metodologici da insportare a livello internazionale. E in occasione del 42esimo anniversario del terremoto in Friuli, la Cineteca del Friuli propone questa sera al Cinema Sociale di Gemona, dalle 21, tre produzioni incentrate sul tema del sisma. 59 secondi sono un tempo brevissimo, ma possono diventare un'eternità e cambiare il corso della storia di un'intera comunità, come è accaduto in Friuli la sera del 6 maggio di 42 anni fa. Come da tradizione, la Cineteca del Friuli, le cui origini sono strettamente legate alla tragedia del terremoto, commemora l'anniversario con una serata di proiezioni e la presenza di numerosi ospiti al Cinema Sociale di Gemona stasera alle 21. Il giovane regista Mauro Carraro, che oggi vive a Ginevra ma è originario di Aviano, ha ripercorso in un cortometraggio di animazione, 59 secondi, una delle storie che il terremoto ha cambiato per sempre, quella dei suoi genitori Tiziana e Bruno Carraro. Quest'ultimo, oggi affermato imprenditore, era militare di leva a Gemona nel 1976 ed è uno dei sopravvissuti della caserma Pantanali. Il trauma individuale e collettivo è reso nel film con immagini di grande intensità. Il regista sarà in sala con i genitori. A seguire sarà proiettato Archeic, l'arte salvata, documentario del 2017 di Sky Art HD, a cui anche la Cineteca del Friuli ha collaborato con materiali dal proprio fondo terremoto. Il documentario affronta con un approccio multidisciplinare un tema fondamentale per un paese ad alto rischio sismico e con un inestimabile patrimonio artistico come l'Italia. Il ruolo dell'arte nel processo di elaborazione e di ripresa che segue un evento traumatico come il terremoto. La proiezione sarà introdotta da Mauro Vale, fabbricere del Duomo di Gemona, che ha salvato molti tesori del patrimonio storico-artistico gemonese. Chiude il programma della serata, Portis deve rinascere qui, del 2018, di Stefano Morandini, antropologo visuale e già autore di documentari e pubblicazioni sulla realtà regionale. Le musiche sono del compositore polistrumentista maniagese romano-todesco. Distrutta dal terremoto del 76 e poi minacciata dalla frana, la frazione di Portis, in comune di Venzone, è stata ricostruita in una zona sicura, un po' più a nord del vecchio abitato, che però non è mai stato completamente abbandonato. A presentare il proprio lavoro al sociale sarà Stefano Morandini. Una replica dei tre film è prevista per mercoledì 9 maggio, sempre alle 21. Una anziana è stata aggredita e rapinata nella notte nella sua abitazione in via Fontanabona a Pagnacco. La donna, quando era da poco passata l'una, si è svegliata, il rumore di una finestra rotta e quando si è alzata dal letto per controllare si è trovata di fronte due malviventi a volto coperto. I due che parlavano con accento straniero l'hanno aggredita, ha cercato di difendersi come poteva, ma i due sono riusciti a rubarle la collana e gli anelli che indossava prima di fuggire. Ancora sotto shock, la donna ha chiamato la figlia che ha dato l'allarme al 112 sul posto dei carabinieri della compagnia di Udine, il personale del 118 che ha medicato l'anziana. Le sue condizioni erano buone nonostante il grande spavento e quindi non è stato ritenuto necessario, ricovero in ospedale. Speterà ora ai militari cercare di risalire agli autori della rapina. E la polizia di Stato di Pordenone ha arrestato un uomo di 55 anni, italiano, residente a San Leonardo di Montereale Valcellina, destinatario di un ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste, dovendo espiare la pena residua di 4 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di atti persecutori, furto, minaccia ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone. Azioni commesse a Pordenone e Aviano tra il 2007 e il 2009, le indagini erano state condotte dalla stazione dei carabinieri di Aviano. I militari della Guardia di Finanza di Muggia, assieme al personale della Capitaneria di Porto di Trieste, hanno sequestrato una tonnellata di prodotti ittici illegalmente introdotti in Italia, alcuni dei quali sottoposti a vincoli di commercializzazione come i datteri di mare. Una pattuglia delle fiamme gialle intercettato lungo la grande viabilità triestina e sottoposto a controllo un furgone frigo con targa italiana. All'interno erano stipati mitili, ostri e altri molluschi di origine provenienza croata destinati al mercato nazionale di pescherie e ristorazione. Durante l'ispezione è stata riscontrata la mancanza della documentazione prevista e tra i vari prodotti appunto anche 15 kg di datteri di mare. Il trasportatore è stato denunciato per detenzioni di esemplari di una specie protetta con il conseguente sequestro complessivo di 225 kg di prodotti ittici che immessi sul mercato illegale avrebbero fruttato 2.500 euro. Diminuisce l'arrivo di migranti nell'isontino. Nel mese di aprile sono stati 70 pari a una media di poco più di 2 al giorno rispetto ai 302 arrivi registrati nel mese di gennaio. I dati sono stati diffusi dalla questura di Gorizia che ha anche spiegato il motivo dell'inversione di tendenza. Si tratta dell'accelerità nelle operazioni di fotosegnalamento e del contestuale avvio della richiesta di presa in carico verso lo Stato competente ai sensi di regolamento di Dublino. Iter che si conclude spesso entro 15 giorni dall'individuazione dello straniero trascorsi i quali residenti asilo vengono trasferiti dove avevano prodotto la prima istanza nel territorio dell'Unione Europea. Si sta in questo modo sgonfiando la tendenza di molti migranti soprattutto pakistani e afghani a raggiungere l'aprile Venezia Giulia dopo che avevano presentato richiesta in altre nazioni. Molte maestre che rischiano il licenziamento per mancanza di titoli pur dopo anni di servizio nella scuola pubblica stanno combattendo una difficile battaglia. Ne sa qualcosa una di loro che ha iniziato da sabato lo sciopero della fame. Io amo il mio lavoro e il mio protestare comunque andare a scuola, stare con i miei bambini perché io e questo quello che voglio fare. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017 salta l'assunzione per 55.000 maestri in Italia di cui 400 in Friuli. Uno scenario che darebbe atto a uno dei più grandi licenziamenti di massa nella storia italiana. A Pordenone Anna Imaiovine, maestra ad Aviano, sta portando avanti lo sciopero della fame da quasi una settimana per far valere i suoi diritti e quelli dei suoi colleghi. Il Consiglio di Stato con una sentenza del dicembre 2017 ci dice che noi possiamo insegnare, siamo abilitate ma non possiamo mai, non possiamo pensare al ruolo quindi dovremmo essere precarie a vita. In quanti siete in questa situazione in Friuli e in Italia? Allora in Italia siamo 55.000 insegnanti, 7.000 chi è in anno di prova e chi ha già superato l'anno di prova e qui in Friuli siamo 400 insegnanti. Con quest'anno molti di noi potrebbero trovarsi non solo a perdere il posto di lavoro e quindi ad essere licenziate ma ancora di più a non poter poi più insegnare e la maggior parte di noi vanta di un servizio lunghissimo. Il 3 maggio c'è stato un incontro con i sindacati di base al tavolo del MIUR e quindi auspichiamo comunque una soluzione e comunque un accordo anche con i sindacati. Lei continua ad andare a lavorare? Assolutamente sì. Il mio scioperare e il mio protestare è comunque andare a scuola, stare con i miei bambini perché è questo quello che voglio fare. Perché noi insegnanti che stiamo protestando lo vogliamo svolgere questo lavoro, noi non vogliamo che ci venga regalato niente. Nessun ruolo è precluso alle donne pilota, nemmeno quello di far parte della pattuglia acrobatica nazionale, le prece tricolori. Finora tuttavia precisa la Forza Armata, non ci sono state donne selezionate per entrare nella PAN, un tema che era emerso in occasione dell'ultimo volo di addestramento della PAN, il 1 maggio ha rivolto. La prima donna pilota è entrata in corso in aeronautica nel 2000 e per loro non c'è alcuna preclusione rispetto ai colleghi uomini. Da allora in tante si sono messe ai comandi delle varie linee per far parte delle frecce tricolori. Il militare, donna uomo che sia, deve far domanda per partecipare alla selezione che è volontaria. Per accedere alla domanda occorre avere una serie di requisiti previsti in un'apposita direttiva provenire da una linea aeronautica, quella delle piloti di jetta, avere un'adeguata attitudine comportamentale, prontezza di impiego che si ottiene con una permanenza di 5 anni in un reparto, finita l'accademia ed accumulate un numero minimo di ore di volo. Fatta la domanda con questi requisiti si può partecipare alla selezione, per ora nessuna donna è stata selezionata, ma l'aeronautica sottolinea non perché fossero in vigore di vieti, se in futuro una pilota farà domanda e passerà alla selezione, le frecce dunque potranno tingersi di rosa. In via Cividale a Udine proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale, tra approvazione ma anche con qualche disagio, qualche dubbio. La situazione sta pian piano normalizzandosi in via Cividale, però i commercianti, gli esercenti della zona hanno qualcosa da ridire per come sono stati condotti i lavori. Ci ha comportato dei disagi perché ci hanno bloccato completamente la strada da ambo i lati con una rete. Io comprendo i loro problemi del lavoro, però non hanno previsto neanche un varco, neanche in prossimità dei passaggi pedonali. Ci siamo sentiti ingabbiati, ma siccome siamo una strada dei negozi di periferia, siamo sempre considerati un po' di serie B rispetto al centro di Udine. Sicuramente ci sono stati dei problemi non indifferenti in quanto i lavori sono stati rimandati di una settimana senza aver avuto nessun tipo di avviso. Quindi che cosa ci siamo trovati? Ci siamo trovati in forti difficoltà. I clienti non avevano possibilità di fermarsi davanti. Adesso hanno asfaltato. Parlano della prossima primavera per fare i marciapiedi e fare la pista ciclabile, quindi togliere le magnolie. Quindi parliamo di un'altra stagione con grosse difficoltà. Si avrebbero potuti sicuramente gestiti in maniera diversa. Per esempio le persone lavoravano fino alle quattro e mezza. Magari con due turni il lavoro sarebbe stato sicuramente più veloce. Altre piccole problematiche, mettere dei cartelli dove le attività sono aperte, c'è la strada chiusa, ok, però negozi e marciapiedi accessibili alle persone. L'asfaltatura quindi era da fare? Era da farsi, sì. Perciò è stata fatta. Bisogna anche ringraziare gli operatori qua che sono stati abbastanza celeri anche nel svolgere i compiti qui. Tutto sommato è stata fatta bene. Però ci sono stati dei disagi. Qualche disagio c'è stato, però metterlo in preventivo. Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha confermato il distanziometro che era stato disposto dal comune di Cervignano per i locali dove sono installate slot machine. L'ordinanza ha quindi respinto la richiesta della società alla quale era stato imposto lo stop agli apparecchi per l'eccessiva avvicinanza a meno di 500 metri a uno sportello Bancomat. L'amministrazione di Cervignano aveva approvato lo scorso febbraio la lista dei luoghi sensibili che sono in tutto 60 in prossimità dei quali entro la distanza di 500 metri è vietata appunto l'installazione di slot e l'attività di raccolta scommesse. Tra questi luoghi ad esempio istituti scolastici, luoghi di culto ma anche compro oro, sportelli Bancomat e istituti di credito. sul territorio comunale erano risultate attive 62 slot in 18 esercizi commerciali, una sala scommesse e una sala giochi. Tra queste 57 erano posizionate entro i 500 metri dei luoghi sensibili. Friuli Innovazione spiega alle imprese come trasformare in prodotti, in servizi a valore aggiunto, in un workshop e un percorso di formazione. Il prodotto opportunità, casi di studio e strumenti per la service innovation è il tema del workshop organizzato da Friuli Innovazione, centro di ricerca e di trasferimento tecnologico e incentrato sulla trasformazione di prodotti in servizi a valore aggiunto, sulla sperimentazione di nuovi modelli di business e sull'introduzione di nuovi servizi per differenziarsi dai concorrenti. L'iniziativa di Friuli Innovazione parte dal presupposto che la servitizzazione, la transizione da una strategia centrata sul prodotto a una centrata sul servizio, sia uno dei cardini del percorso di trasformazione verso industria 4.0. Questa scelta deriva dai cambiamenti in atto, ma purtroppo a volte ci accorgiamo con grande lentezza dei cambiamenti, quindi il cambiamento ci sorprende. Quello che cerca di fare Friuli Innovazione è avvisare che il cambiamento sta arrivando e porre degli esempi, dei temi, delle questioni da tradurre in progetti a disposizione del territorio. Grazie a questo progetto europeo noi in Europa selezioneremo 100 PMI, una decina in Italia, in particolare nel nord-est dell'Italia e queste potranno senza oneri, quindi gratuitamente, avere consulenza e supporto per ragionare sulle nuove strategie che vogliono implementare e su quali nuovi modelli potrebbero costruire per essere più competitive. Solo nel 2017 abbiamo lavorato con più di 70 nuovi partner europei. Per il futuro? Per il futuro stiamo lavorando anche su un'iniziativa a favore delle imprese che realizzeremo in autunno per la stampa industriale 3D, sempre con le imprese, sempre con un grande partner europeo, sempre a favore del territorio. Seconda edizione di Open Design Week si svolgerà in contemporanea agli Shopping Days a Udine. Presidente, seconda edizione di Open Design Week, di cosa si tratta e quali le novità di quest'anno? Ma diciamo, siamo partiti l'anno scorso ed è stato un buon successo. Quest'anno lo stiamo replicando e speriamo di avere risultati migliori per poter crescere. Abbiamo fatto in occasione, abbiamo messo insieme Shopping Days e l'Open Design Week perché vogliamo andare sulla città e sull'intero territorio regionale a far conoscere quelle che sono le eccellenze dei nostri negozi e del nostro arredamento. Ci saranno circa una ventina di iniziative che ogni sin che complessivamente i negozi hanno preparato in questi tre giorni per far conoscere le novità e per far conoscere i nuovi prodotti. Noi tra l'altro abbiamo veicolato attraverso le nostre mailing list di quelli legati a Casa Moderna oltre 10.000 inviti e quindi speriamo e ci auguriamo che questo trovi una rispondenza anche nella partecipazione della gente. Quali sono le tipologie di negozi che vi partecipano? Le tipologie sono quelle dell'arredamento, non soltanto nella città di Udine ma anche al di fuori. e quindi sono legati, noi questa operazione la facciamo anche in collaborazione con l'onforniture di ConfCommercio quindi dei negozianti che aderiscono a ConfCommercio e quindi sono legati all'arredamento e alla casa in generale. Può essere l'occasione per rilanzare l'industria locale? Ma non lo so se questo è un risultato però io ritengo che la conoscenza sia un veicolo e una situazione che fa crescere sia la cultura di chi va a vedere e sia anche di chi vuole proporre prodotti nuovi. Dieci giorni di appuntamenti con incontri, laboratori per la settimana della cultura friulana giunta alla quinta edizione. Dieci giorni con più di 130 appuntamenti sparsi per le località del Friuli Venezia Giulia ma anche in Comuni del Veneto. È stata presentata la quinta edizione della settimana di culture friulane settimana della cultura friulana proposta dalla società filologica friulana a partire dal 10 maggio. La settimana della cultura friulana è una grande manifestazione, una grande rassegna che dà continuità alle rassegne degli anni scorsi che vuole presentare elementi che riguardano la cultura, l'identità, il territorio, la storia, le varietà della nostra regione. È una manifestazione che tende a presentare quindi l'eccellenza, l'eccellenza della nostra terra onorando le persone che l'hanno illustrata e i momenti fondamentali della sua storia. Gli appuntamenti in questi dieci giorni dal 10 al 20 maggio sono tantissimi. Qualcuno che vuole ricordare? Ci sono veramente tantissimi appuntamenti, sono 130 appuntamenti che si possono seguire nel sito dedicato che è www.settemane.it Si possono seguire, diciamo sono dislocati naturalmente su tutta la nostra regione e anche fuori regione, anche nelle vicine province del Veneto e quindi sono manifestazioni che riguardano l'infanzia, la gioventù, i ragazzi, la scuola, la formazione ma anche momenti di convegno, di riflessione su personalità oppure momenti particolari della nostra storia o per esempio personalità come Antonio Comelli, come Alfredo Mizzau come altri benemeriti della nostra cultura. La vigneta di oggi di Fernando Venturini. Per l'Udinese si avvicina la sfida contro l'Inter domenica alle 12.30 allo stadio Friuli e sembravano profilarsi contestazioni all'orizzonte e invece alla fine la tifoseria fa un passo indietro e decide per la traegua seppure contestualizzata a domenica. Rendere nota la linea sono stati oggi la UC e l'associazione Curva Nordi. Primi hanno pubblicato un comunicato dove invitano i tifosi a mettere da parte la rabbia e a sostenere la squadra. Non lo merita, dicono, ma dobbiamo stargli vicino. Mancano solamente 270 minuti alla fine di questa faticosa e dolorosa stagione e l'obiettivo è accompagnare alla salvezza l'Udinese. In Serie B ci andiamo soprattutto noi tifosi, per questo dobbiamo fare tutto il possibile per evitare che questo avvenga. Se le cose poi aggiungono non dovessero andare bene, non potremo costringere tutti a non fischiare, ma bisogna ricordarsi che il campionato non finirà al termine di quella partita. All'orizzonte c'è ancora la fondamentale trasferta di Verona, la salvezza è alla portata dell'Udinese, ma dobbiamo essere al suo fianco ancora una volta e come sempre poi al termine della stagione arriverà per tutti il momento della resa dei conti. Quasi contemporaneamente la Curva Nord ha pubblicato su Facebook un comunicato dove informa che disetterà i primi 45 minuti, ma solamente per protesta contro i recenti DASPO. Nel secondo tempo sostegno alla squadra, agli animi comunque sono sotto questa presa di posizione piuttosto caldi, quindi saremo a vedere come evolverà la situazione. Intanto il questione di Pordenone ha emesso quattro DASPO per la durata di un anno nei confronti di tre tifosi del Pordenone, uno del Bassano per comportamenti illeciti. In occasione dell'incontro del 27 gennaio al Bottecchia, in termine del match due auto con a bordo alcuni sostenitori dei ramari avevano eluso il blocco della viabilità e raggiunto il pullman dei tifosi del Bassano. Non è nato un tafferuglio senza feriti, prontamente sedato dalle forze dell'ordine. Due dei partecipanti sono stati bloccati e accompagnati in questura, mentre altri due sono stati individuati e identificati dalla DIGOS di Pordenone. Tutti i destinatari dei provvedimenti sono già stati segnalati alla procura di Pordenone per il reato di percosse. Ma torniamo in casa udinese perché quella di ieri è stata una serata di festa per l'Udinese Club di Orsaria con la consegna del premio Orsetto d'Oro ed Argento. Premiamo cinque ragazzi della nostra comunità che si sono distinti non solo nella loro disciplina sportiva ma anche in ambito familiare e scolastico. In più abbiamo pensato di organizzare e di salutare due nostri componenti che per altri motivi hanno scelto di fare qualcos'altro e una persona che ha donato un rene alla sorella. Quindi questa ci sembrava la consegna dell'orsetto d'oro, credo, rispetto di diritto. I complimenti vanno a questi ragazzi che sono distinti in vari campi, non solo quello sportivo. Quindi benvengano queste manifestazioni che riescono così a dare gratificazione a questi ragazzi che sono distinti. Quale emozione ti aspettavi a una vittoria del genere? Eravamo partiti di andare, di fare una bella prestazione, di onorare il Friuli Venezia Giulia, di arrivare fino dove potevamo arrivare. Siamo arrivati in finale, l'abbiamo vinta con tante emozioni, un bel gioco, un bel gruppo, fantastico, una bella esperienza. Senti, si dice che ci sono pochi giocatori friulani, insomma, bravi, però voi avete dimostrato che invece è il contrario. In effetti è vero, ci sono molti giovani friulani che vogliono mettersi in evidenza, però c'è qualcuno che non li guarda, vede altrove. Ed è tutto per questa edizione del Telegiornale, grazie per averci seguito, buona serata. Grazie. 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 Grazie.